Cari amici, buongiorno a tutti. Allora, nel prossimo video vi parlo della zoo farmacognosia. Cos'è? La zoo farmacognosia studia il modo in cui gli animali riescono a curarsi attraverso ciò che trovano in natura. Parlerò anche delle piante curative che si usano di più nelle cure dei problemi salutari dei animali, quelli in casa e quelli in natura che già sanno. Parlerò delle piante aromatiche come fare cautela con l'uso. Parlerò. Parlerò.